miau sei e un quarto buongiorno a tutti buongiorno notare il cappello con il pompon non è indifferente dentro dormono tutti ma io inizio a togliere l'apertura termica dall'attesa la truma al minimo la truma al minimo ecco qua mettiamo via abbiamo avute visite sì 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 Grazie a tutti. 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 Eccoci qua di nuovo. Abbiamo parcheggiato, adesso, stavolta, al parcheggio del Kronox. Perché poi l'ho detto che, chiaramente, tornando indietro ci faremo una bella partita a Wuling. Oggi è una bella giornata, anche se al lago prima con il drone non c'era tanto sole. Oggi è una bella giornata. Stai sparando? Ehi, stai spira, stai spira, stai spira, stai spira? è super male. Si? Si? Si fa male? Si. Si. E' guardare, stai spira, stai spira. ahahahahah Oh 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 Veloce Veloce, atento Vai, vai, vai Dentro canestro Vai 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 Veloce 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 Inici Inici Il Inici Vai, pronto Vai Vai hai visto che hai buttato giù qualcosa? si schiaccia così te lo fa venire sta spettando la pala? vai, proviamo a prendere questo è qui l'ambe? Ehi, hai visto? Vieni, vieni, bravo! Hai visto che bravo? E' quella, sì. Ehi, hai visto? Ah, vedi. Sì! Entra! Sì! 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 Vete che te aiuto! No! Dove è la sopra? Non si è di più Come avete visto siamo a Livigno ieri abbiamo preso tantissima neve ci siamo divertiti un sacco abbiamo fatto una bellissima pastigliata nella via principale di Livigno e i vivi ci sono divertiti da matti con la neve stamattina poi abbiamo visitato un bar che chiamo il brocco? La crolla? La crolla. Abbiamo fatto un'esplosione in questo bar e il personale è stato gentilissimo vi lo raccomandiamo. Ieri è stata una giornata di pioggia e lì si sono venuta da una maniera e ci siamo divertiti un sacco come parcheggio vi possiamo consigliare vicino al lago di Livigno c'è una vista bellissima e lì si sta molto bene Abbiamo fatto una golazione con i pancassi io sono la migliore faccia di pancassi Le montagne, la neve, il lago davvero è stata una bellissima esperienza Venite a Livigno che è un bellissimo paradiso Grazie a tutti 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 Abbiamo fatto una bella passeggiata lungo il Livigno Però abbiamo riscontrato che non è più come una volta comprare le elettroniche volevamo prendere alcuni accessori per le nostre testature ma non ci conviene qui e l'uniche cose che conviene realmente sono tutto ciò che ha il monopolio quindi l'alcol lo zucchero le sigarette il gasolio come avete visto ieri ci siamo proprio fermati a dormire in libera dalla stazione dell'aip avete visto i prezzi era 1.03 e 1.17 per la verde i bambini si sono divertiti tantissimo con la neve che è arrivata ieri infatti se vedete qui è tutto verde tutto verde ma poi è arrivata la neve abbiamo il tetto pieno di neve adesso la toglieremo per liberare i pannelli solari abbiamo chiuso la grata del frigo dove c'è il motore del frigo perché da lì entra un pochino di aria adesso realizzeremo qualcosa di apposito proprio per per chiudere bene quello e niente il wingam è veramente molto caldo abbiamo lavorato al minimo con al numero 3 mi amoria ride e niente e niente vediamo la prossima ciao a tutti come avete visto siamo a morvegno è caduta tantissima neve ieri abbiamo fatto una cosa stai dicendo? aspetta fammi controllare ah no 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 non siamo a morvegno vai dai rifacciamo se siete alla ricerca di un bellissimo allora niente vi racconto che in due giorni abbiamo potuto avere l'opportunità di vedere l'ivigno verde e bianca perché in 24 ore meno è caduto neve allora abbiamo avuto questa opportunità niente allora vi invito a iscriversi a suscriversi al nostro canale e andare con noi su tutti questi che andremo a visitare ciao 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 ciao